Il terremoto ha sconvolto l'est degli Stati Uniti. Nella capitale del Montana, che è stata funestata da ben 700 scosse in tre settimane, la bassa temperatura aggrava la situazione e le condizioni della popolazione così duramente provata. Centinaia di edifici sono in rovina. Per un vero miracolo si deplorano soltanto sette vittime, ma i feriti non si contano. Anche a New York e in altri stati del nord-est fino a Chicago si è propagato il movimento tellurico, suscitando grande panico ma fortunatamente pochi danni. Nella città maggiormente colpita si è verificato un esodo della popolazione. Centinaia di persone abbandonano le loro case e le proprietà sotto l'incubo del ripetersi del fenomeno. Quelli che rimangono provvedono ad abbattere le rovine pericolanti e si preparano a ricostruire la capitale del Montana.